Vuoi passare una serata allegra, divertente, spensierata? Vuoi divertirti ma non sai dove andare? Chiama Celli C'è! Serate a tema, cene spettacolo, specialità gastronomiche e musica 70-80-90. Se ti vuoi divertire, stare bene e fare nuove amicizie, chiama Celli C'è! Le nostre location sono fantastiche, un format su misura per divertirti e stare bene. Chiama Celli C'è al numero 337-645768 o visita il sito celice.it